La settimana prossima, il 13 luglio alle 10, presso Palazzo Gradari, la Politecnica delle Marche presenterà la propria offerta formativa con particolare attenzione a quello che è il corso di sistemi industriali e dell'informazione che apriremo qui a Pesaro, un corso di laurea professionalizzante e abilitante. Quindi vi do appuntamento martedì 13 alle 10 qui a Palazzo Gradari e poi vi rimando a tutto l'orientamento sul sito dell'Università Politecnica delle Marche. Una cosa importante è che da oggi fino al 24 agosto alle ore 13 sono aperte le iscrizioni al test di ammissione perché vi ricordo che abbiamo soltanto 50 posti, dico soltanto perché la richiesta che ci arriva dal mondo del lavoro è veramente elevata e quindi sia da parte di aziende che di studi professionali per figure professionali del genere. Quindi l'appuntamento è innanzitutto per martedì 13 presso Palazzo Gradari e poi per l'iscrizione fino al 24 agosto. L'unica cosa che ricordo è che bisogna iscriversi, quindi non sarà una giornata aperta, ma bisogna iscriversi entro domenica inviando una mail a orientamento.univpm.it. Le novità principali sono queste, innanzitutto andiamo ad aprire un nuovo curriculum sempre di impianti energetici ed elettrici ma con un curriculum navale perché abbiamo avuto una forte richiesta anche di tutto il distretto medioadriatico, abbiamo moltissimi cantieri e quindi apriamo questo nuovo curriculum. Le altre novità molto importanti è che, come poi stabilito dal PNRR, questo corso di studi sarà abilitante. Questo significa che dà accesso diretto a due sezioni dell'albo dei periti industriali laureati, quindi è possibile andare a svolgere la libera professione senza dover sostenere l'esame di Stato. E l'altra novità importante è che per gli studenti che vengono dagli istituti professionali e tecnici è possibile riconoscere come esami le attività di laboratorio già svolte durante il triennio delle superiori. Siccome l'ultimo anno è tutto svolto come tirocinio presso aziende o studi professionali, chi ha già svolto attività, per esempio di alternanza scuola-lavoro, chi già lavora può certificare come tirocinio questa attività che ha già svolto. Quindi vale anche l'attività lavorativa pregressa. E questo è un aspetto molto importante perché comunque riduce di molto l'ingresso nel mondo del lavoro. In tutto il lavoro fatto devo ringraziare anche le aziende che hanno dimostrato grande interesse. Proprio martedì ho portato la proposta in giunta, anche con un nuovo protocollo, come abbiamo fatto con il cantiere Rossini. Adesso lo faremo anche con BS e anche un ringraziamento alla provincia che si è resa disponibile perché appunto questo corso sta portando i suoi frutti e vediamo che le richieste stanno arrivando anche da fuori regione. La cosa importante e innovativa che abbiamo portato come corso universitario è stato l'ascolto delle aziende. Quindi la richiesta di persone formate che possano entrare direttamente nel mondo del lavoro per l'esigenza e la richiesta che viene data dalle aziende stesse.